WeBuild ha costruito Metropolitania un po' in tutto il mondo. Realizzare la Metro 4 è un onore speciale. Ogni volta una grande emozione. Il cambiare i sistemi di mobilità in città è fondamentale. In meno di un quarto d'ora, come abbiamo detto molte volte, si arriva dall'Inate a qui. Le grandi infrastrutture cambiano la vita delle persone. La città più dinamica, più moderna, più innovativa. È una proiezione verso il futuro, è un'eccellenza europea. Oggi è una bella giornata perché restituiamo a milanesi e turisti un asse viario, sicuramente fondamentale. Sono molto felice e sono fiera di quello che sto vivendo questa giornata. Sono matricola 24. Il primo luglio ho fatto dieci anni che sono qua. Volevo dire grazie a tutti questi ragazzi e queste ragazze che con le loro mani hanno costruito questa metropolitana per voi, per voi cittadini. Grazie. Grazie per aver guardato. Grazie. Grazie a tutti.